Giulia, tiraci dentro il tuo ospite perché voglio sentire loro su quello che ci dà un po' una visione diversa di Mario Monti perché lui è Claudio Messora è uno dei blogger più letti in Italia ancora non l'hanno nominato e già mi dovete far inimicare il futuro Presidente del Consiglio ancora non l'hanno nominato ma non perdete mai il vizio anche quando andate su Tele San Marino è una cosa terrificante ci piace dare la versione alternativa perché infatti Claudio ha scritto sul suo blog che adesso è tutto fuorché democrazia perché hai così paura del governo tecnico? il governo tecnico diciamo che non è una cosa molto democratica specialmente nel modo in cui viene affrontato in Italia e in Grecia perché ricordiamo che sono caduti simultaneamente due governi Italia e Grecia e in uno vogliono mettere un podestà forestiero che è Mario Monti nell'altro Lucas Papademos che cos'è il podestà forestiero? è qualcuno che arriva quando un governo, la politica di un governo si mette paura di fare le riforme perché queste riforme sono impopolari ma se una riforma è impopolare significa che al popolo non piace ora a me hanno insegnato che in democrazia il popolo elegge i suoi rappresentanti per fare quello che desidera perché il popolo è sovrano e quindi è un controsenso però a larga maggioranza tutti dicono che le riforme necessarie di cui abbiamo bisogno oggi le potrebbe promuovere proprio Mario Monti grazie al suo curriculum istituzionale tu invece racconti Mario Monti come un altro uomo racconti la sua versione più nascosta e dici che lui in realtà rappresenta banche e interessi privati ma nei curriculum e negli articoli di giornale di solito si omettono tre cariche di Mario Monti uno è la carica di rappresentante per l'Europa della Commissione Trilaterale che è un organismo privato voluto da David Rockefeller il magnato americano sì, il grande magnato americano che pensava di agevolare i rapporti reciproci, le reciproche dipendenze tra l'Europa, gli Stati Uniti e il Giappone e che aveva un'idea tutta particolare della democrazia perché uno dei primi studi che sono usciti esplicitava il fatto che addirittura negli States c'era virgolettato un'eccessiva democrazia che quindi bloccava i processi della Casa Bianca che nell'Europa e nell'Est c'era troppa partecipazione democratica e quindi andava ridotta altrimenti le burocrazie troppo faraginose si bloccavano e diceva esplicitamente che le uniche democrazie che una volta funzionavano erano quelle dove c'era una larga fetta di popolazione che stava letteralmente in apnea cioè non doveva avere parola né partecipare nei processi democratici Commissione Trilaterale, gli altri incarichi di cui parli tu? Sono l'International Advisor di Goldman Sachs che è una delle più importanti banche d'affari mondiali e la partecipazione è il gruppo Bilderberg che si riunisce ogni anno che è una specie di lato ombra della Commissione Trilaterale perché è realizzato tutto a porte chiuse e l'ultimo incontro è stato fatto a St. Moritz e c'era anche Tremonti, quindi Monti, Tremonti quindi sono incarichi dove questi personaggi in club privati decidono tra l'altro nel gruppo Bilderberg, Bilderberg non puoi neanche avvicinarti i giornalisti non sono ammessi è chiusa, a porte chiuse ci ha provato l'ultima volta Borghezio, si è preso un pugno in faccia e ultima domanda, secondo te che connessione c'è fra la possibile nomina di Mario Monti e i mercati che si sono tutto ad un tratto calmati? Beh, abbiamo detto che Tremonti è un uomo di Goldman Sachs Basti pensare Scusa, Monti, sì Monti è un uomo di Goldman Sachs Basti pensare che su Milano Finanza quindi non in un luogo proprio di complottisti e cospirazionisti è uscita la notizia che dietro all'impennata di spread di questi giorni c'era proprio un lavorio di speculazione di Goldman Sachs la stessa Goldman Sachs che poi se ne esce con un comunicato stampa ufficiale è un'agenzia in cui dice che le elezioni sono lo scenario peggiore per i mercati che il governo tecnico è quello che serve per abbassare lo spread Cioè praticamente, Feltri, questo è micidiale quest'analisi qui praticamente